Ciao! Questa è Arte Green, io sono Alicia e io sono Yolana. Oggi vi vogliamo far conoscere un nuovo prodotto green perché negli ultimi tempi abbiamo iniziato, c'è quella quarantena, abbiamo iniziato a pensare ma quanti risultati facciamo, dobbiamo fare anche qualcosa in più e allora abbiamo iniziato a comprare varie cose. Questa volta non indovinate cosa è, questo è lo scotex, però non è un scotex classico di carta, ma è fatto con la fibra di bambù, quindi se lo guardate, vedete, è un po' più spesso e questo è riutilizzabile e lavabile. Noi come vedete qui ci abbiamo già usate perché dopo un po' di tempo si... Sì, perché all'inizio ci dispiaceva, si guarda e diceva è così bello che dispiace usarlo. Sì, allora come vedete sono stati già usati, lavati e nella cosa non bisogna mettere nell'asciugatrice e non bisogna nemmeno stirarli perché sennò si stringono. Nella lavatrice le potete mettere senza problemi, la vanno per bene e sono venute anche abbastanza bene. Quindi ora le riusiamo. Perché abbiamo scoperto nella confezione dove era avvolto questo rotolo che in pratica ogni giorno per fare allo scoperto e sicuramente anche la rata igienica, vengono tagliati 51.000 alberi. Mentre invece il bambù è una pianta a crescita molto veloce e quindi è molto più sostenibile e infatti è per questo che tutte le cose che sono green adesso vengono fatte col bambù perché non si deforesta ma si pianta la piantagione che cresce talmente tanto che quindi... anzi più la taglia e più cresce. Ora noi faremo anche una prova nel senso quanto si anche risparga. Certo perché comprare le cose green e riutilizzabili fa risparmiare anche tanti soldi. Magari tanti no però piano pianino se uno inizia... Se fa il conto da qui ha mangiato tutta la vita... Si prova, vi faremo sapere. Speriamo che avete trovato questo video interessante. Comunque contrate a seguirci e a guardare anche altri video sulle cose riutilizzabili e green che abbiamo comprato. Anzi magari faremo anche una prova di come poter fare uno scottex magari con la spugna da riutilizzare. Faremo a vedere. Sì, sì, tanto noi cerchiamo sempre le novi idee. Dateci una mano anche voi, mandatevi. Avete trovato magari qualcosa e noi ci proveremo. Quindi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green. Seguiteci su Instagram e visitate anche il nostro sito web. Allora, al prossimo video vi aspettiamo. Ciao!